Lo scorso giovedì 20 ottobre all'Enaip di Rovigo è intervenuto il barman Adriese Leonardo Cisotto, multipremiato, sviluppatore di cocktail e dal curriculum invidiabile. Probabilmente il primo ospite di una lista di professionalità che saranno chiamate a intervenire per raccontare il proprio lavoro, in modo che i ragazzi possano farne tesoro. L'anno scolastico dell'Enaip di Rovigo è stato programmato soprattutto per i ragazzi del quarto anno, ultimo del percorso scolastico, in base a collaborazioni e interventi di professionalità ad altissimo livello nel mondo della ristorazione e dell'hotellerie. I ragazzi sono stati rapiti dalle narrazioni che hanno accompagnato la realizzazione dei cocktail e della passione che hanno percepito. I ragazzi sono stati rapiti dalle narrazioni che sono stati rapiti dalle narrazioni che sono stati rapiti dalle